L'ex capo della squadra mobile Michele Giuttari non ha dubbi, il mostro di Firenze non esiste, esistono i mostri, ovvero i mandanti dei duplici delitti avvenuti dal 74 all'85, un gruppo di insospettabili personaggi dell'alta società che avrebbe commissionato gli omicidi per ottenere fetici da utilizzare nei riti satanici. Nel suo nuovo libro Giuttari rilancia l'ipotesi del movente esoterico e l'esistenza di un livello superiore che avrebbe stretto un patto segreto con la criminalità, così da far emergere Pietro Pacciani come unico serial killer colpevole e chiudere definitivamente la vicenda. Pacciani fu ucciso, afferma l'ex poliziotto intervistato dalla Nazione. Ne sono convinto alla luce degli esami tossicologici e dell'approfondimento effettuato sul cadavere. Il contadino di Vicchio non voleva pagare per tutti e temeva di essere ammazzato, lo aveva anche scritto, sottolinea Giuttari. Inoltre, come confermato dalla commissione parlamentare che recentemente si è occupata del caso, pure l'ex capo della squadra mobile ritiene centrale la figura nella vicenda di Francesco Narducci, il medico perugino rampollo di una famiglia della borghesia legata alla massoneria, di cui fu inscenato il ritrovamento nel lago Trasimeno il 13 ottobre dell'85. 15 anni più tardi, grazie alla riesumazione della cadavere disposta dalla procura di Perugia dopo alcune intercettazioni telefoniche in cui interlocutori anonimi appartenenti ad una setta affermavano che Pacciani e Narducci erano stati uccisi perché traditori di Satana, si scoprì che il medico era stato strangolato. Questo, come sottolineato anche da Giuttari, è un ulteriore elemento di prova a sostegno dell'esistenza di un livello superiore molto potente, capace di commissionare i delitti rimanendo sempre nell'ombra.